L'estate sta finendo e sapete cosa arriva? L'autunno o cos'altro? Beh non solo, arrivano le sindrome. Noi adulti soffriamo della sindrome da rientro al lavoro, una cosa grossa, ma anche i bambini hanno la loro, la sindrome da rientro a scuola. Se i nostri piccoli iniziano a soffrire di nervosismo, stanchezza, sbalzi di umore, mancanza di concentrazione, difficoltà a dormire e insofferenza, non sono capricci. Di sicuro qui succede qualcosa. Facciamoli sentire capiti e sosteniamoli con le giuste strategie. Sì perché il passaggio dalla vita all'aria aperta agli ambienti chiusi dove stare fermi, dalla luce naturale estiva a una luce artificiale e più scura genera nei bambini un vero stress psicofisico che non va sottovalutato. Soprattutto nelle prime settimane bisogna aiutarli a sopportare bene il cambiamento. Ecco come. Prima di tutto facciamoli andare a letto presto e diamoli una buona colazione al mattino, senza troppi zuccheri, magari cereali, frutta fresca e frutta secca. Mandiamoli a scuola con una merenda davvero nutriente, visto che la concentrazione prolungata consuma molte energie. Sì a panini, dolci sani fatti in casa o a frutta nutriente come la banana. No a merendine industriali o sacchettini di patatine. Anche pranzo e cena sono determinanti. Diamogli cereali in chicchi, molte proteine magre e verdure in ogni forma. Se le rifiutano rifigliamogli le olive, sempre vegetali sono. Come dolcetti, frutta cotta, frutta cruda, la adoreranno. Se la stanchezza si protrae nel tempo, avete mai pensato a un integratore per bambini? Madre natura ci ha pensato. I più completi, naturali e sicuri sono polline e pappa reale. Se ami anche tu la salute naturale, metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!